Francesco Paolo Antoni e Stefano Sarcinelli presentano a tutti coloro la trasmissione culturale di Kiss Kiss FM. Forza, 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 forza che lo spettacolo comincia, lo so, lo spettacolo è già finito, forza spalmare, spalmare fuori che mi porti in grotta a Puglia. Spock, domani, Spock, a carne, Spock, Rau, Spock, Spock io, all'ornega P, vostre peperù, all'ornega P, Cigiri che bucì, all'ornega P, Vicenti, Luisa, Luisa. A tutti coloro, a tutti coloro, a tutti coloro, Cigiri che bucì, venga, apri, all'ornega P, Ehi tu, all'ornega P, mi senti? Come se, come se, come se, come se qualcosa? Non siamo noi essere raccisti, sono loro che sono napoletani. Ur, ti faccio un gioco, ur, ti faccio un gioco, ur, vani, sal poso, trova pela la la. c'è un telefono strighi da secco c'è un telefono certamente e chi è? a tutti i colori mi vendo qua il problema ma c'è l'identità un colpino si cattiva di sette e sette e mezzo va su va giù va su va giù va su va giù forza 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 lo spettacolo non è ancora iniziato eh lo spettacolo è già finito forza spalmare 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 fuori forza spalmare spalmare fuori mi porto in grotta a buia